Bentornati con le qualsiasi previsioni a cura di Meteo One. L'alta pressione ha ormai conquistato tutta la nostra penisola, con temperature in rialzo, soprattutto nelle zone interne. Si potrebbe registrare ancora qualche rovescio temporalesco, ma per lo più relegato in Appennino. Secondo le ultime proiezioni dei modelli previsionali, ci attende un weekend all'insegna del Campdo e dei Cili Serini. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per venerdì 9 giugno. Al mattino, tempo generalmente soleggiato su entrabbe le regioni. Al pomeriggio, qualche nube in più nelle zone interne dell'Alta Murgia, con possibili rovesci relegate al massiccio del Pollino. Alla sera, ritorna il Serino ovunque. Per quanto riguarda le temperature, il rialzo sia nelle massime che nelle minime. Punti di 30 gradi su Foggiano, Murgia Barese e Materano. Venti deboli e variabili, mari da poco mossi a calmi. E ora, per quanto riguarda la foto del giorno, ringraziamo il nostro telespettatore Pietro Petruzzelli per questo scatto magnifico del tramonto sul porto di Bari, col sole all'orizzonte. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.